Ciao cari amici, è un'intervista molto interessante, io direi anche in parte illuminante, è stata fatta recentemente dall'ex ministro della difesa russo Shoigu, che adesso come voi sapete è il segretario del consiglio di sicurezza della federazione russa, questo è chiaramente per Shoigu, questo cambio di posizione sicuramente è stato un cambio di qualità più bassa, Shoigu è stato sicuramente tolto dal ministero della difesa perché non ha riuscito a gestire la situazione molto difficile con la corruzione interna, io della corruzione nel ministero della difesa russo vi ho già parlato mille volte, vi ho già raccontato come il presidente Putin da quando è arrivato al potere negli anni 2000 ha iniziato subito a affrontare questa lotta interna tra ministero della difesa pieno di generali corrotti che hanno creato una loro struttura di potere all'interno di una delle principali strutture di difesa del paese e dall'altra parte c'erano i riparti di sicurezza di stato, la FSB come la chiamiamo noi e la GRU o come la chiamano russi GRU, questa è l'ultima, sono i servizi segreti militari, ecco queste due strutture sono unite e si sono opposti a lungo dominio del potere nella sfera di difesa e di sicurezza del paese che hanno sfruttato i generali corrotti del ministero della difesa russo. Putin quando è arrivato ha capito subito qual è la situazione, lui chiaramente non è una persona sprovveduta e già nella seconda guerra cicena lui ha dimostrato di sapere bene qual è il principale problema della federazione russa ovvero la corruzione del ministero della difesa, in effetti se voi osservate come è stata gestita la seconda operazione antiterroristica in Cecenia voi scoprirete che il ministero della difesa non è stato neanche consultato, neanche coinvolto nella fase preparativa e nella prima fase di svolgimento delle operazioni. Il ministero della difesa è stato coinvolto solo nella fase finale in effetti se noi pensiamo che l'operazione militare antiterroristica sul territorio della Repubblica Cicena è iniziata nel 1998, ufficialmente il ministero della difesa è stato integrato all'interno dell'organizzazione di questa operazione solo 29 agosto del 1999, cioè più di un anno dopo. tra l'altro è stato integrato non come un sistema decisionale, non come un sistema che si occupava di strategie ma semplicemente come un fornitore della logistica, cioè in grande linea Putin ha umiliato il ministero della difesa ha detto voi la guerra non la farete, la guerra farà FSB che sono servizi di sicurezza dello Stato e loro si occuperanno della chiusura delle frontiere dalla parte della Russia la GRU, di ritorno principale dell'informazione, sarà il principale stratega di questa guerra e loro metteranno i loro riparti operativi sul territorio e quindi loro faranno fisicamente la guerra nelle montagne sconfiggeranno il terrorismo nelle zone occupate dai terroristi voi dovrete semplicemente fornire la logistica a questi riparti e assicurare un certo livello di copertura di artilleria e copertura aerea ma solo seguendo le indicazioni che vi daranno i generali del ufficio speciale presso la presidenza di antiterrorismo il ministero della difesa era umiliato, poi dopo ovviamente ci sono stati sviluppi contro Putin hanno cercato di fare diversi operazioni, non ha funzionato niente Putin è una persona che ha dimostrato di essere molto abile nel mondo politico, nel mondo dei funzionari e alla fine lui ha messo nel ministero della difesa il suo uomo che era Shoigu Shoigu doveva impedire a questo sistema piramidale di continuare a funzionare come un sistema di corruzione però cosa è successo? con l'arrivo di Shoigu, in pratica Shoigu ha costruito una piramide legale all'interno del ministero della difesa ma cari amici, era una piramide dentro un'altra piramide, cioè lui non ha demolito la corruzione e questa è la cosa più importante perché lui non ha demolito la corruzione? perché semplicemente Shoigu non è un militare, non ha un'esperienza militare lui arriva da MCS che è il servizio di situazioni estreme, vigile di fuoco e così via lui ha gestito molto bene quella struttura per degli anni e Putin sperava che nel ministero della difesa lui riuscirà a creare una struttura che spingerà fuori i militari corrotti struttura Shoigu l'ha costruita all'interno del ministero però questa struttura, ripeto, non ha sostituito ma è diventata parallela alla struttura di corruzione e poi con tempo la struttura di corruzione ha infettato anche la struttura di Shoigu e quindi si può dire che la sua piramide, il suo progetto è stato un progetto fallimentare per questo motivo Shoigu è stato tolto è stato scambiato con Belaussev Belaussev è una persona legata soprattutto ai progetti di contabilità e lui attraverso un'altra manovra cioè attraverso la manovra di calcolo dei soldi rubati allo Stato utilizzando il fatto che adesso c'è l'operazione militare speciale quindi tutto il popolo russo ovviamente vuole vedere i risultati positivi i risultati positivi sono molto difficili da raggiungere per quale motivo? perché per degli anni nel ministero della difesa c'erano i corrotti quindi Putin ha adesso questa leva di totale appoggio da parte del popolo russo per iniziare a fare semplicemente le purghe prima lui non poteva farlo, prima se lui avrebbe fatto una cosa del genere durante il momento di pace i militari di questa cricca corrotta avrebbero subito iniziato a suscitare le polemiche tra le persone avrebbero cominciato a parlare delle purghe staliniane avrebbero usato i loro soldi per assoldare i giornalisti per cominciare a criticare il potere e Putin avrebbe rischiato sicuramente creare all'interno del paese una spaccatura qua oggi invece lui sta vincendo perché le sue purghe sono completamente sostenuti dal popolo anzi la gente è stanca di questi corrotti militari li hanno già messi in galera parecchi e stanno mettendo ogni giorno, stanno arrestando qualcuno ormai il numero degli arrestati, io ho letto altro giorno l'elenco aggiornato il numero ha superato mille persone cioè immaginate che tipo di pulizia che stanno facendo dietro ogni generale arrestato ci sono centinaia di fornitori, banchieri tutto fare, gente di politica addirittura cari amici altro giorno hanno arrestato un presentatore televisivo cioè immaginate questo prendeva le mazzette da corrotti del ministero della difesa per promuovere nella televisione, nelle informazioni la loro verità questa è la situazione che si sta svolgendo oggi e ovviamente Shoigu è stato tolto è stato tolto perché lui chiaramente non ha riuscito a portare avanti in maniera collettativa questa sua chiamiamola crociata contro corruzione adesso lui fa parte di un'organizzazione che ha una importanza rappresentativa ma non ha una grande importanza decisiva cioè il consiglio di sicurezza nazionale della federazione russa è un organo che si occupa soprattutto di curare l'aspetto comunicativo dei progetti ma non fa nessuna strategia non si occupa assolutamente di logistica niente di concreto e di serio solo teorie solo le visioni solo organizzazione dei vari riunioni coinvolgimento di diverse strutture e così via quindi da loro non dipende diciamo niente di concreto sul terreno e ovviamente in questa situazione loro hanno meno peso quindi Shoigu anche ultimamente si vede abbastanza più sereno tranquillo anche la cera sua sulla faccia diciamo è migliorata mentre era negli ultimi mesi nel ministero della difesa sembrava morto sembrava adesso ho cominciato un po' risperare lui ha fatto un importante intervista altro giorno proprio come il capo del consiglio di sicurezza nazionale di federazione russa nel quale ha affrontato e qua cari amici 100% lui sta portando avanti un'informazione che le è stata data da superiori perché chiaramente lui sta narrando non la propria tesi non le proprie idee lui sta dicendo quello che gli è stato diciamo detto gli è stato imposto in pratica Shoigu ha detto che Putin aveva accettato la proposta della Turchia di abbandonare gli attacchi agli impianti energetici in Ucraina e anche attacchi contro la flotta commerciale e civile in Ucraina però proprio le autorità di Kiev alla fine non hanno accettato questi accordi e questa cari amici è una è veramente un fulmine dal cielo perché mentre noi stiamo parlando del fatto che c'è il rischio di escalation russi non vogliono accordi russi vogliono conquistare russi non vogliono mettersi d'accordo è non possibile non è possibile parlare con i russi non è possibile con i russi mettersi d'accordo noi vediamo che in realtà i russi più di una volta hanno dimostrato a livello internazionale di voler finire questa situazione con gli accordi utili per tutti quindi persino i turchi hanno diciamo suggerito di non colpire gli impianti energetici ma i russi non è che hanno mandato i turchi in quel paese dicendo no i russi hanno detto ah interessante ragionevole sì certo facciamo un accordo facciamo un accordo andiamo uno verso l'altro noi smettiamo di colpire gli obiettivi infrastrutturali gli ucraini prendono un altro impegno gli ucraini non hanno voluto non hanno voluto portare avanti queste trattative cosa ha detto in pratica Shoigu lui ha detto testualmente la Turchia ci ha suggerito di non colpire gli impianti energetici di non colpire gli impianti di energia nucleare e di non colpire la flotta civile commerciale nel Mar Nero il nostro presidente ha preso una decisione e ha detto sì prendiamo questa decisione ed è stata una grande sorpresa per noi quando dopo poco tempo le autorità ucraine hanno detto no 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 non accetteremo questo accordo inoltre Shoigu ha affermato che l'Occidente si comporta con i beni congelati della federazione russa come un banale ladro lui ha detto che ora sul tavolo ci sono molte proposte diverse per l'Ucraina basate sul progetto di Istanbul del 2022 più di 110 paesi valutano positivamente le iniziative di Cina e di India per soluzioni del problema ucraino ogni giorno l'Ucraina perde in media 28 chilometri quadrati del territorio e le forze armate ucraine perdono fino a 2000 militari tra morti e feriti ha detto Shalgui quindi secondo i calcoli sarebbe opportuno per gli ucraini di fermare questo degrado e mettersi a tavola dei negoziati Shalgui ha detto in totale tra agosto e settembre l'esercito russo ha liberato mille chilometri quadrati sul territorio dell'Ucraina sono stati uccisi tantissimi militari ucraini però le autorità ucraine preferiscono di seguire gli interessi ovviamente non nazionali non del proprio popolo non della propria visione strategica operativa ma seguono continuano a seguire gli interessi anglosassoni per questo motivo rifiutano qualsiasi proposta delle trattative che sono stati messi sul campo cari amici già diversi molto diversi da questo tempo in questi tempi ad esempio ricordiamo prime trattative di Minsk che sono stati alla base dell'inizio che avrebbero potuto funzionare e avrebbero potuto anche evitare l'operazione militare speciale perché io vi ricordo che le trattative di Minsk sono stati messe in campo ancora prima che i russi hanno iniziato l'operazione militare speciale quindi potevano essere un'ottima soluzione che avrebbe potuto soddisfare tutti però gli ucraini hanno preferito di continuare a fare le marionette delle occidentali hanno demolito proprio il paese hanno perso i territori stanno perdendo enorme quantità dei mezzi enorme quantità dei militari stanno facendo ormai terrorismo aperto perché cari amici ciò che loro hanno fatto sul territorio di Kursk massacrando i civili ciò che loro stanno facendo quando lanciano i droni sul territorio russo le loro richieste ultimamente all'occidente di poter utilizzare le armi occidentali a lungo raggio per colpire il territorio russo tutto questo cari amici sta parlando solo e soltanto della volontà delle ucraini di seguire una linea della guerra sempre più violenta sempre più convolgente sempre più divampata sul territorio della russia la guerra che interessa l'occidente che interessa le anglosassoni ma non corrisponde agli interessi dell'ucraina perché l'ucraina con ogni giorno di questa guerra perde sempre di più sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista politico che soprattutto dal punto di vista di quantità dei cittadini e degli uomini perché come sapete ogni giorno di guerra dall'ucraina fuggono sempre più persone l'ucraina perde i cittadini che scappano che fuggono dalla guerra e dall'altro canto perde i cittadini che vengono trasformati in maniera ormai illegale seguendo le leggi draconiane nei militari mandati in prima linea e massacrati lì dai russi quindi questa è una grande tragedia per l'ucraina però cari amici finché al potere in ucraina rimangono le forze che non rappresentano gli interessi del popolo ma rappresentano gli interessi degli oligarchi anglosassoni purtroppo la linea del paese sarà sempre quella così come anche nei paesi dell'unione europea anche noi in Italia finché abbiamo al potere dei personaggi che non rappresentano gli interessi dell'Italia non rappresentano i valori dell'Italia non rispettano la costituzione italiana ma fanno tutto quello che serve solo e soltanto ai loro padroni anglosassoni noi in Italia vivremo male noi non avremo lo sviluppo economico non avremo assolutamente nessuna garanzia sociale politiche sociali diventeranno sempre meno e sempre più restrittive sempre meno aiuti avranno i cittadini italiani le infrastrutture saranno sempre gestite sempre peggio e alla fine ci trasformeremo cari amici veramente in una brutta coppia di un paese uno dei tanti paesi resi completamente schiavi dagli anglosassoni dico brutta coppia perché non saremo un suddito degli anglosassoni con un livello medio del benessere assolutamente no saremo trasformati a una colonia dei poveracci calpestata dal sistema militare anglosassone e maltrattata dai rappresentanti degli anglosassoni che saranno i nostri politici i nostri governanti che agiranno al di fuori sicuramente dei sistemi legali del sistema basato su costituzione voi guardate il modello dell'Ucraina e immaginate che stessa cosa avverrà anche con Unione Europea se continuerà questa strada così come sono stati cancellati i diritti umani in Ucraina saranno cancellati anche nei paesi europei e nessuno potrà fare niente così come i cittadini del paese Ucraina sono stati trasformati nella carne da macello tranquillamente possono accadere stesse cose nei paesi dell'Unione Europea ci vuole solo tempo piano piano passo dopo passo loro vi faranno arrivare a questo livello per questo motivo dobbiamo stare molto attenti e cercare di evitare queste cose con questo amici io come sempre vi saluto alla fine dei miei video vi invito di informarvi in maniera obiettiva sul mio canale privato telegram io condivido tutta l'informazione che di solito viene nascosta censurata oppure strumentalizzata dal nostro mainstream occidentale il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube vi invito di iscrivervi al mio canale youtube commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre donazioni per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene